buongiorno a tutti buona domenica oggi è il 26 ottobre santo alfredo la giornata è bello salutiamo tutti i fans che ci seguono che ci ascoltano faccio il sole oggi e domani domani e lunedì domani e domani è dura sì perché stiamo colore è cambiato loro indietro io ho fatto ieri e dieci e mezzo luna il rasveglio lo svegliato a luna che sarebbero le due e te lo sai abbiamo rimasti venire torna no no stiamo ancora aspettiamo facciamola la canzone rosace bagno facendo la gente resta di manda al bagno purtroppo non si può dire di no un piatto di pasta si può dire di no però qualcuno deve dal bagno non si può rifiutare niente domani è lunedì allora chiudiamo con la canzone però facciamo quella di gladio baglione un'ora in più che se ne va per l'orologio che dura per un'eternità per tutti quelli così come noi una metà un'ora in più che passo ormai e quanto volte io ho detto sì ci vediamo a più presto niente oggi allora ricordo che oggi è stato alfredo niente che non ha spostato ancora l'ora regale che stiamo con l'ora regale un'ora indietro che è importante sono una mattina con i ragazzini davanti alla scuola insomma una cosa e l'altra arrivederci a presto e saluto a tutti a presto